Ciao a tutti, è Federico qui per Spara Home e oggi voglio fare questa casa molto bella in Roma, in uno dei più becchiati, Trastevere. Questa zona è molto ben conectata perché in Viale Trastevere hai molti busstops, molti supermercati, molti pubs, restauranti e banche e tutto ciò che hai bisogno per la tua vita quotidiana. Puoi arrivare facilmente per 20 minuti, più o meno, alla piramide stop della metro B e in 10 minuti puoi arrivare al Viale Trastevere che puoi portare facilmente a Fiumicino Airport e a Termini, quindi è molto ben conectato e l'area è meravigliosa. Quindi oggi siamo in questa 3-bedroom house, puoi vedere il main corridor qui, questa è la porta principale, poi abbiamo questa finestra, andiamo al quartiere, c'è una piece di of furniture qui, e poi andiamo al quarto numero 1, qui vediamo, vedete un po' di direzione, vedete, 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 vedete spazio o di più e ora possiamo andare a metà numero 2 abbiamo questo punto qui Bigger than the other room This desk, the chair A small trash can, right there This Stuff, I don't know A small mirror here, a bigger mirror Right there A big double bed A bedside table here Shelfs here One and two And then I'll show you Questa visita per il cloverto Questa è una grande ruota Questa è piena di spazio Questa è piena di spazio Questa è piena di spazio Ok, e poi andiamo a la sala numero 3 Qui vediamo Questa è una mirola qui Questa è un'occhiostra in un'occhiostra Questa è la sala numero numero 3 Questa è molto bella E' ecco Questa è una scena Qui c'è una scena di spazio Questa è una tavola con la luce Questa è una grande tavola con la tavola in fronte Un'occhiostra 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 Questa è la storia Un'occhiostra La storia Un'occhiostra 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 and see this big piece of furniture here and space a light right here and then we can move to the bathroom with this pieces furniture with comparts and then we go to the bathroom you can see you have this mirror here my hair dryer right there sink with these comparts this chair a small trash can here this window toilet the boiler for hot water and this big shower here that's it and then we move to the kitchen there we go this close at this landlord's property so it's gonna be closed and here's the living room living room slash dining room you can find this heating point here this big piece of furniture where are cups and then you have your dishes and here all the stuff in the kitchen there's two small chairs one two very small chairs big round table in the middle with six chairs this piece of furniture where you have glasses and candles this light here small TV and I think this TV will go in the bedroom number two this piece of furniture here this big clock and then we move to the kitchen you can see you have these comparts and wall full of food I don't even know what is this and then you have a oven here with four cookers the washing machine for categories the washing machine for clothes and then two comparts down here down here we're cleaning stuff and trash can a double sink here the fridge with the freezer the spare furniture with a big trash can right there you can see the window that goes to get a rest of the way and then we have here these comparts full of pots this tostapana here this is for the spremuta for the orange and then this is for the frullati and the coffee machine ok guys so for this apartment more or less is everything there is very very nice is very well connected this beautiful the nightlife here is amazing and for me is one of the best neighborhoods in Rome don't hesitate to contact us from spotahome.com for further information thank you very much indeed ciao